ciao ragazzi sto girando questo video nella mia camera sdraiato sul mio letto perché ho saputo che è morto e ci ha lasciato il 23 agosto quindi tre giorni fa il grande massimo mattioli e come sapete non sono solito fare i video i necrologi praticamente chi mi conosce lo sa sa anche perché non amo farli però sempre chi mi conosce sa che massimo mattioli è stato per me un artista scusate e dicevo che mi conosce sa quanto fossi fissato con questo artista perché è stato un grande lo seguivo lo seguo da quando ero ragazzino non c'è mai stata una volta che io abbia visto l'episodio di grattachecca e fighetto gridando e hanno copiato una massimo mattioli un artista polietrico che spaziava dal dallo splatter alla fantascienza al porno e anche l'autore di di pinky un fumetto del pubblicato sul giornalino fumetto per per bambini diciamo e in questa occasione voglio ricordare massimo mattioli con un video che già sicuramente avrete visto di qualche mese fa in cui vi parlavo in occasione dell'uscita di squeak the mouse pubblicato dalla della coccoino vi parlavo di delle opere di massimo mattioli e questa è l'edizione albi di blu una delle prime edizioni costava 8 mila lire all'epoca negli anni 90 e niente io vi saluto vi lascio vi lascio al video buona buona visione con la soffitta di pippo ciao ragazzi ciao a tutti amici della soffitta di pippo probabilmente avrei dovuto fare questo video già da molto molto tempo fa anzi questo doveva essere uno dei primi video della soffitta di pippo sono sincero poi tra un unboxing un'uscita in edicola un fumetto western un dick drago e un'altra diciamo che questo video adesso vi dico anche di quale fumetto sto parlando è passato un po così nel cavalleria finché e la cocco nino press non ha deciso di ripubblicare squeak the mouse ragazzi dandovi così l'occasione di parlarvi di un fumetto pazzesco c'è una cosa pazzesca straordinaria e il è anche di un autore che è tra i miei autori preferiti un autore che io che mi fa impazzire un genio che è massimo mattioli autore che ha i cannibari vecchi cannibari nel senso riferito alle pubblicazioni no frigider e il mare c'è e ai vecchi cannibari come me sicuramente già lo conoscono mentre i i giovani pischielli che magari non conoscono questo autore consiglio di andare a recuperarlo perché ragazzi per dirla non ci vuole come parlano i giovani è un autore figlissimo ho detto bene non lo so squeak the mouse massimo mattiori allora molto questo fumetto è nato nel 1982 ragazzi memorizzate questa data 1982 perché perché magari qualcuno che avrà visto squeak the mouse al napoli al comicon che ho visto che c'erano i manifesti dell'acofonino con squeak the mouse allora ha detto eh ma questo avrà copiato da gratta checca e fighetto cose già viste e p3 friends eccetera eccetera no ragazzi molto probabilmente è stato matt grading a copiare massimo mattioli allora questo fumetto nasce come parodia di tom e jerry anzitutto che è l'archetipo del gatto e il topo che si inseguono la differenza qual è la differenza che qui c'è lo lo splatter già si vede subito dalla copertina che io mi appresto anche a spalancare ma con delicatezza perché questo volume che mi trovo in mano ce l'ho da da tanti anni ed è della della bluepress ce l'ho dal 94 questo volume quindi c'ha un po ha i suoi annetti no dalla parte c'è il topo con la sigarettica che taglia la testa al gatto e poi c'è il gatto che spacca la testa al topo quindi già si capisce che è un fumetto nonostante i disegni che sono bellissimi stra pop no sono popissimi si dice no sono stra pop i disegni di muti sono come vedere come guardare devo stare attento a cosa vi mostro come guardare un carton animato mutano ci sono solo i suoni onomatopeici ci sono la differenza qual è che in questo fumetto ecco qui c'è lo splatter e il porno cioè quindi è un fumetto molto violento e veloce dinamico e io defini potrei definire no mattioli forse il re del pub del palp non solo per squick the mouse ma per altri personaggi già che sperando che la coconino si pubblichi anche questi tipo joe galaxy joe galaxy non è il re incontrastato del pulp joe galaxy è il pulp fatto fumetto leggete joe galaxy ragazzi io vi devo fare vedere i disegni di mattioni che sono straordinari alla joe galaxy vedete il viola il giallo questi questi contrasti così così acidi cioè è roba che c'è matt graining a mattioni di spicciacasa c'è di cosa stiamo parlando ragazzi certe scene vabbè allora i dialoghi sono pazzeschi ma poi ci sono scene ambientali nello spazio e piante stuprate una storia tipo questa dove c'è è un one man solo con joe galaxy che parla in cui fa un monologo una serie di battute così cioè insomma mattioli le ha sperimentate tutte le ha sperimentate con squick the mouse e con joe galaxy ma la cosa che di mattioli è un autore che ho sempre seguito la cosa che mi ha lasciato sempre un po sconcertato di mattioli com'è che uno può passare da e adesso vi faccio vedere anche questo il giornale edizioni san paolo ops è caduto il segno libro vabbè c'è com'è che uno può passare da personaggi così tipo pinky che che è visto sotto l'ottica no cioè se noi se prendiamo squick the mouse e pinky forse risulta ancora più allucinato no perché dice quel cazzo che questo autore c'è uno uno che scrive delle cose cattivissime come come squick the mouse no poi pubblica sulle edizioni san paolo il un personaggio come pinky un personaggio naturalmente per bambini e anche pinky nonostante comunque sia un personaggio per bambini è sempre molto molto pop e direi anche abbastanza abbastanza psichedelico per essere pubblicato sulla rivista essere stato pubblicato sulla rivista e così no perché peccato che le viste così non non se ne trovino più tante in giro anzi io sono contento che la coco ino stia abbia ripubblicato un fumetto come squick the mouse che vi consiglio di comprare anzi molto probabilmente vi dico subito edizione della coco nino la comprerò anch'io perché contiene 40 pagine niente mai pubblicato che sono curiosissimo di leggere e di vedere io vi vorrei farvi vedere un po di un beccato già la scena allora mattioni inserisce capire il che queste fa parte dello stato puro inserisce anche dei frame cinematografici 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 all'interno delle delle vignette citazioni a non finire no magma ecco che si qua il polno a me che dove cercare devo cercare di beccare delle scene alla riva ce ne sono qualcosa nel coprendo cioè c'è ragazzi non so c'è giusto per farvi capire qualcosa ecco di squick the mouse e sarebbe tom e jerry praticamente sarebbe dom e jerry come non l'avete mai visto ecco nonostante anche tom e jerry comunque se ci pensate no era abbastanza violento infatti parte proprio da quel presupposto non so se vi ricordate no delle scene in cui tom o per esempio jerry affettava tom e personaggi si aprivano si aprivano così no tipo fisarmonica ecco anche qui succede la stessa cosa è solo che c'è il sangue no perché quando il personaggio viene tagliato a metà tipo faccio vedere le scene dove i personaggi si beccano delle ecco tipo qui c'è il personaggio che si becca un'accettata in fronte però la testa non si divide in due no quando con l'accettata ma esce il cervello dal dal cranio esce il sangue dal insomma si può dire che è un fumetto non horror diciamo più un anche se sfoge anche nell'horror è un thriller violentissimo con dei personaggi impazziti usciti dai cartoni animati ecco c'è un incubo è l'incubo di tutti i bambini squirt the mouse joe galaxy invece è un fumetto di fantascienza e palp fantascienza palp ragazzi non so se se abbia datemi conferma se è in programma la pubblicazione di joe galaxy o se la cocconino abbia pubblicato anche joe galaxy così poi farò una recensione tutta dedicata al personaggio di joe galaxy e magari chissà anche una recensione dedicata a pinky ragazzi vi saluto sono contentissimo di avervi parlato così anche se in grandi linee di un autore che a me piace molto come massimo mattioli autore artista soprattutto ripeto per me mattioli è un artista della della pop art cioè è roba che qui c'è mattioli qui c'è matt grading ragazzi e non ve lo sto dicendo no per così per trollare ma perché davvero il c'è quello che ha fatto mattioli del dei primissimi anni 80 fine anni 70 primissimi 80 cioè se lo sognavano gli altri è grandissimo vanto fumettista per gli italiani dicono vanto campanilistico cioè fumettista italiano spero che di avervi diciamo incuriosito su questo su questo autore su questi personaggi fatevi sapere se avete preso anche voi l'edizione della cocconino se invece vi trovate in casa le edizioni della della frigider se l'avete della primo carnera se l'avete se avete mai letto qualcosa di mattioli se conoscete i suoi personaggi insomma scrivetevi 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 perché io sono felicissimo di rispondere a tutte le vostre domande naturalmente c'è anche il gruppo whatsapp per chi volesse entrare e parlare con altri disgraziati come me e vi saluto ciao alla prossima ragazzi